Conti però, attenzione signori, le moto sono fredde, le auto sono più larghe, quindi mi raccomando, lasciamogli passare, lasciamogli lo spazio per far passare anche le vetture, stanno facendo, siamo in pista, la prima è una Giulia, la prima è una delle nuove... La macchina, l'autotelaio e quello di la Peugeot 106, un motore che era una Honda CBR, quindi il campione europeo in Cagliari, quindi una delle leggiore promesse nell'automobilismo italiano, la Ghina Scarloni, Peugeot 106, con la lente fuori, il motore che fa la sua, e poi il primo vero avuto in pista. Il motore a Fulga HF 116, e poi dietro il primo dei parigi banchi con la vettura più datata, dalle 60 alla via, una francese Amisgar 1936, parte il motore a Fulga HF, e poi... ... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.